Conosco questo quartiere. In quel vicolo mi hanno testato. Non sta che voglia di larrendersi tu. Ho tutto il giorno libero. Hai mai pensato di scappare via? Se comincio a scappare non ti fermi più. Davvero vuoi farlo? Ci sono uomini che sacrificano le loro vite. Non ho nessun diritto di fare meno di loro. Posso offrirti un'occaglione. Il nostro scopo è creare una nuova specie di super soldati. Quando ho portato un asmatico di 40 kg nella mia base ho lasciato correre. Sono in cerca di qualità che vadano oltre il fisico. Le guerre si vincono col coraggio. Granata! Succhi a terra! Era un test. Sempre troppo magro. Qualunque cosa accada, rimani chi sei. Non solo un soldato. Ma un bravo uomo. È troppo tardi per andare in bagno. Sei riuscito. Il diavolo sei! L'estremo di tante. Idra è la divisione nazista di stesse avanzate. È capizzata da Johan Schmidt. Si crede un dio. E farebbe saltare in aria mezzo mondo per dimostrarlo. La mani luce è da questa tecnologiana. Ho richiesto un esercito e mi hanno dato te. Congratulazioni. È stato promosso. Signor Stark, ho qualche idea per l'uniforme. Beccherai un mucchio di ragazze. Capitano, siamo molto simili. Non so se sarò in grado. Non sarai da solo. Cosa avevi di speciale? Niente. Sono di Brooklyn. Sei in ritardo? Beh, nessuno ha persetto. Non so se sarò in grado, 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 non so se sarò